Per noi sono essenziali, perché la professione, come amo ripetere molto spesso, per noi non è una professione libera, che non si può esercitare liberamente, ma è vincolata proprio da alcuni principi e da alcune norme stabilità all'interno del codice. Questa professione che mi comina una vita veramente molto lunga nella storia, da sempre esistono persone che trovano maturate. E poca di questo grandissimo uomo del passato, che abitava in questa piccola isola di fronte alla Turchia, Cos, decise di dare dei vincoli ai suoi amici, erano dei vincoli che sono rimasti per noi per sempre, in realtà loro sono rimasti uguali, il vincolo di non fare mai del male a persone a cui ci si affida, è il vincolo di non dare mai la morte, di perseguire sempre il benessere del malato, il vincolo anche di rispettare il proprio maestro. Grazie. Grazie. Grazie.